Carissimi fratelli e sorelle della famiglia calabriana, buona festa di San Giovanni Calabria a tutti voi. Ringraziamo in modo particolare lo Spirito Santo che ci ha ispirato, ha suggerito e ci ha guidato durante questo percorso della novena che abbiamo vissuto insieme, in unità, con tutta la famiglia calabriana sparsa per il mondo. È stata una bella comunione, proprio creata e vissuta dallo Spirito Santo che ci ha accompagnato durante questi giorni. Un ringraziamento a tutte le persone, a tutti voi che dalle vostre case, dalle vostre comunità, dalle vostre attività, in realtà, avete seguito questa novena, avete pregato con noi, pregato insieme chiedendo l'intercessione di San Giovanni Calabria. Un ringraziamento particolare a tutte le persone che hanno collaborato, che hanno creduto a questo progetto in un modo o nell'altro hanno dedicato del tempo e la passione perché questo materiale possa essere fatto e arrivato a tutte le parti del mondo. Un particolare ringraziamento a Matteo Cavigliari che ha dedicato molto tempo. Lui come regista ha fatto in tempo di preparare i video perché arrivassero alle diverse realtà del mondo. Questo è un segno molto bello di comunione, di lavorare insieme, come il Signore anche in questo periodo può fare attraverso questi mesi di comunicazione tante cose belle e tante realtà che si possono raggiungere con questi mezzi di comunicazione. Abbiamo voluto vivere questi giorni della novena in comunione con tutta la Chiesa Universale, in comunione con Papa Francesco che ci ha donato l'enciclica Fratelli Tutti. Due aspetti che emergono in questa enciclica ma che sono stati anche il percorso che abbiamo fatto in questi giorni. Un aspetto è quello dell'amore di Dio, l'amore misericordioso di Dio, l'amore di Dio Padre che ci invita ad abbandonarci nelle sue mani, ad avere fede, fiducia. Un Dio che in Gesù crea una comunione tra di noi, ci fa Suoi figli e fratelli tra noi. Un Dio che mandando lo Spirito Santo rinnova in noi tutte le cose, tutte le cose le fa nuove per vivere nella fratellanza, per vivere in comunione con Dio. E un altro aspetto molto importante è quello del prendersi cura, prendersi cura dei più poveri, prendersi cura l'uno dell'altro, prendersi cura del creato, prendersi cura dei noi stessi e di tutta l'umanità. Questo è un segno per le generazioni presenti e future, questa fratellanza che si prende cura delle diverse realtà. Alla fine di questo percorso, oggi, celebrando con molta gioia, con un grande spirito di festa, la celebrazione di San Giovanni Calabria, vogliamo chiedere la sua intercessione, in modo particolare perché ci aiuti a tornare alle fonti del Vangelo, per essere Vangeli viventi. Lui ci diceva, ci ricordava, torniamo alle fonti del Vangelo, alle radici del Vangelo, al Vangelo puro, al Vangelo genuino. E questo invito è per tutti noi oggi che celebriamo la sua festa, che nessuno si senta escluso di questo invito. Noi oggi celebriamo con grande gioia e vorrei ricordare ciascuno di voi, particolarmente nella celebrazione dell'Eucaristia, nella benedizione finale con le reliquie di San Giovanni Calabria. Vi ricordo, vi penso e auguro a tutti voi una buona festa del nostro Santo di San Giovanni Calabria. A tutti voi arrivi la mia benedizione e viviamo con grande gioia questa festa di San Giovanni Calabria.